Non verrà realizzato un impianto eolico fotovoltaico nel territorio di Tortorici, Castellumberto, Sinagra e Ucria. Così hanno deciso i giudici della seconda sessione del TAR di Catania che hanno rigettato i ricorsi proposti da Eolo Energie, Tortorici, Castellumberto e SRL contro l'assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità e la sovrintendenza dei beni culturali di Messina. La ditta aveva chiesto l'annullamento del decreto regionale che rigettò l'istanza per l'impianto e i pareri negativi della sovrintendenza e della conferenza di servizi dei comuni di Sinagra e Castellumberto. Il secondo ricorso si riferiva anche alla richiesta di risarcimento danni perché l'istanza di autorizzazione unica avrebbe anche fermesso l'accesso agli incentivi statali. Il danno è stato quantificato dalla ditta ricorrente nella misura di oltre 540 mila euro a titolo di danno emergente e di oltre 19 milioni di euro a titolo di lucro cessante. Il progetto riguardava anche le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio dell'impianto. La regione ha contestato che la Eolo Energie Tortorici Castellumberto non avrebbe adempiuto alla consegna della necessaria documentazione utile al progetto. Il Tarra ha riunificato i ricorsi e di seguito ha espresso il proprio giudizio evidenziando la carenza di documentazione che questa ha condizionato anche l'esito della conferenza di servizi. Per tutta una serie di motivi che sono stati evidenziati sia dalla regione quanto dalla sovrintendenza, il Tarra ha detto no al rilascio dell'autorizzazione unica. Lo stesso vale per la richiesta di risarcimento del danno poiché è stata zerata dalla carenza dei presupposti per il rilascio dell'autorizzazione unica.